Possiamo credere in un'energia divina che ci anima e ci circonda? Se fossimo animati da un'energia divina esterna, non ci sarebbe motivo di praticare, perché qualsiasi cosa facessimo, sarebbe questa energia esterna a decidere il nostro destino. Ricordo un servizio su un terremoto in Peru, che mostrava un'anziana donna seduta davanti a un cumulo di rovine, che spiegava, questa era la nostra casa. L'abbiamo costruita con le nostre mani, con l'aiuto di Dio. Dio ce l'ha portata via, ma se vuole la ricostruiremo. Siamo dunque i giocattoli di un Dio capriccioso che decide tutto per capriccio? Questa credenza è orribile per due motivi. La prima è che impone l'impotenza della volontà umana, soggetta alla benevolenza di un Dio presumibilmente misericordioso. La seconda è che nega ogni senso di responsabilità e porta alla situazione in cui si trova il mondo oggi. Lo ha deciso Dio, in altre parole, non è colpa mia. Quindi non è colpa mia, è colpa degli altri. Quante volte abbiamo assistito a scene in cui, ad esempio, un uomo picchia la moglie e le dice guarda cosa mi stai costringendo a fare. Questo processo è riscontrabile sia nelle coppie che a tutti i livelli della società e a livello internazionale. La guerra è colpa di qualcun altro. Le divinità a cui si fa riferimento nell'insegnamento di Nitshiren Daishonin sono funzioni del Buddha. Agiscono per la protezione del praticante del Sutra del Loto, come condizione, causa esterna, ma richiamata dalla nostra pratica, causa interna. Nel trattato sulla serenità del paese, Nitshiren Daishonin racconta che, a causa di offese al Dharma, le divinità benefiche avevano lasciato il paese, sostituite da spiriti maligni. Ora, la notte del 12 settembre dell'anno ottavo di Bunei, 1271, sulla strada che porta a Tatsunokuchi, passando davanti al santuario dedicato alla divinità Hachiman, chiese di smontare dal cavallo e rimproverò la divinità per non aver mantenuto la promessa di proteggere il praticante del Sutra del Loto. Questo potrebbe essere visto come una contraddizione, poiché si suppone che le divinità abbiano lasciato il paese. In realtà, si trattava della divinità interiore Hachiman di Nitshiren Daishonin. Queste divinità interiori si manifestarono all'esterno un po' in più tardi sotto forma dell'oggetto luminoso che pose fine all'esecuzione. Penso che sia lo stesso per noi. Anche se le cose si manifestano all'esterno, nella misura in cui sono comprese nel nostro pensiero unico, tutto dipende da noi e dalla nostra pratica. Enche se le cose si manifestano all'esterno, nella misura in cui è stato un'illоссeraggio in un'inizio che si manifestano all'esterno, nella misura in questo tempo. A questa 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 è un'illowsita caratteristica in Grazie.